La più grande storia del mondo con Lucy, prossimamente su questa rete. C'è padre, dai, c'è, perdonali, dai, c'è, loro, c'è, loro sanno quello che fanno, capito, c'è? Sono bravi ragazzi, magari intanto si annoiano, fanno qualche cavolato, c'è, però dai, c'è! Oggi c'è, la coscienza è pulita, ma dai, ma chi ce l'ha? C'è? Che stiamo a fare, c'è? I duri e i puri? Ma dai! Bravo! C'è, ancora i duri e i puri? Bravo! Bravo! Ma chi lo raccontiamo? Che bello! Complimenti perché hai tradotto un messaggio antico con un linguaggio che i giovani possono capire perfettamente. E poi ti volevo dire una cosa, che secondo me questa idea di mettere mandalena sulla croce è assolutamente geniale. Cioè, me l'ha detto che sono un genio, ma per me, c'è, è un genio di speciale, c'è, che ci vuole, sali, c'è. Giusto. Cioè, io mi sono buttata da un ponte, ma perché la devo salire sulla croce, c'è? Per me non è niente, capito? Per l'esperienza che io mi butto giù con l'elastico, c'è anche tutte le cose che dicevano, c'è, scomodo, c'è, per niente. Cioè, c'è, 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 c'è. Cioè, c'è, c'è, c'è.